La sasse di calcio Latte Dolce impatta tra le Muramiche contro l'Aprilia, 1-1 il finale, in una partita dove gli uomini di Mr. Paba hanno dovuto fare a meno i diversi effettivi, ma tenuto bene il campo contro una formazione che, rispetto alla giovane età, ha mostrato carattere e molta furbizia. Le reti tutte nel primo tempo, su pallanativa al vantaggio ospite che ha approfittato dell'unica occasione che ha pitatagli. I biancocelesti hanno attaccato a tutto campo e sono pervenuti al pari con Ruiu, giovane terzino schierato in campo dal Mr. Sassarese. Alla fine è un buon punto che allunga la serie positiva della sassa di calcio Latte Dolce, che ha come primo obiettivo lasciare alle spalle quante più squadre possibili. Nel frattempo si prepara alla prossima trasferta, con l'augurio di rientri importanti nella compagine che mostra evidenti segni di crescita e fiducia ritrovata per poter ben figurare in questo campionato di Serie D.